La maggior parte delle persone scoprono la solidità della base solo nel momento della tempesta. C'è questa presenza permanente, grandissima lì per tutta la nostra vita. Ed è il fondamento che Brad e Emanuela hanno già scoperto. È la base del loro matrimonio su cui si costruirà. Ed è sicuramente il fondamento che loro vorrebbero che anche tu potessi avere. La prima volta di Dio, è la prima volta di Dio, è la prima volta di Dio. Quindi è con grande piacere che proclamiamo che loro sono marito e moglie. So what God has joined together, men, è una cosa che voglio che Dio ha unito nessuno.